Occhio, perché c'è un nuovo tipo di truffa che ho scoperto navigando in rete e che vorrei condividere con più persone possibili affinché si tengano gli occhi aperti per non incappare in qualche sgradevole sorpresa. Ho scoperto questa nuova truffa e mi ha veramente stupito perché è confezionata piuttosto bene e a un occhio inesperto potrebbe apparire davvero legittima. Stavo navigando in rete e a un certo punto mi compare un banner pubblicitario di un giornale molto importante all'apparenza e si vede in primo piano Chiara Ferragni con dei lividi sul viso, con l'aria triste, affranta e un titolo che lascia veramente spazio all'immaginazione. Non si era accorta che il microfono era acceso, queste sono le ultime parole e la fine di una carriera. Ora, non è nuova questa cosa sui social, no, un titolo clickbait, un'immagine forte e il tentativo di accalappiare quanti più like possibili, quanti più click possibili per far cadere nella rete persone più o meno sprovedute. C'è un però, c'è un però, che nel banner in basso dove c'è l'indirizzo proprio del sito il sito è www.repubblica.it A quel punto una persona anche un po' distratta chiaramente che cosa fa incuriosita dal fatto che Repubblica possa pubblicare una notizia di questo tipo va a cliccare e anche solo per capire di che cosa stiamo parlando. E qui comincia la truffa perché a un certo punto, cliccando, si entra all'interno di una pagina che è la stessa identica di quella di Repubblica, sia nel font, sia nella veste grafica, sia nei banner, i loghi, le icone dei social, tutto perfetto, anche due minuti di lettura, proprio tutto ben fatto. E comincia quindi l'articolo con questo grande clamore che è tipico di questa tipologia di articoli e che non ti aspetteresti però da Repubblica. E comincia questo articolo in cui, in maniera sempre scandalistica, clamorosa, per cercare di creare un'emozione in colui che legge, si racconta semplicemente che Chiara Ferragni è stata ospite da Cattelan, gli ha raccontato una serie di cose e alla fine lo ha convinto ad investire verso una piattaforma di credo trading, adesso non so di che cosa, di investire queste 250 euro. C'è un problema, che la Ferragni non ha mai fatto questa intervista, Cattelan non ha mai fatto questa intervista, nessuno ha mai chiesto di investire questo denaro, il problema è che tutto quanto viene raccontato come se fosse stato detto dalla voce dei personaggi. E siccome la veste grafica è quella di Repubblica, quindi è una veste grafica conosciuta, apprezzata, autorevole, allora diventa tutto molto più sensato, molto più veritiero. Ora, quando capita di imbattersi in articoli del genere, la prima cosa a cui bisogna fare attenzione sono le parole, come sempre. Quando un articolo cerca di accalappiare laico, addirittura di truffare qualcuno, che cosa fa? Utilizza delle parole clamorose, delle parole scandalistiche, delle parole che creino un'emozione generalmente negativa, con un senso di rivalsa per chi sta leggendo, che leggendo quella storia quasi strappalacrime, intende intervenire in prima persona e fare suo quel problema, che va dritto al cuore di chi sta leggendo. E infatti la prima frase è, Chiara Ferragni si è pentita di aver rivelato la verità, ma era già troppo tardi. Lo scandalo è scoppiato durante una trasmissione in diretta, quando Chiara Ferragni ha accidentalmente rivelato il suo segreto sul programma. Vedete, queste parole, segreto, scandalo, pentimento, sono parole che fanno leva a livello emozionale sullo spettatore, sul lettore, e creano quel senso di empatia che va a trasferirsi dal personaggio, che dovrebbe essere protagonista di questa storia, della storia che si sta raccontando, perché poi è sempre tutta una narrazione che va da un soggetto A a un soggetto B, solo che il soggetto B che cosa fa? È portato ad intervenire in prima persona per dirimere, risolvere o partecipare attivamente a quella dramma a cui sta assistendo. Ora, nel corso dell'intervista, che non voglio ripercorrere completamente, però Chiara Ferragni, sempre questo fake, dice a Cattelan, ti dirò una cosa, non devi lavorare per essere ricco. Ecco, questo è un grande classico dei nostri tempi, il far leva sul desiderio delle persone di avere denaro senza lavorare, senza fare niente. E se lo dice una persona autorevole, affermata, che i soldi li ha fatti, che è riuscita a costruire un impero, allora vuol dire che quel messaggio è ancora più veritiero, vuol dire che quel messaggio è ancora più impattante, allora possiamo credere a questa cosa. Poi fa leva sul sentimento, no? Cattelan risponde, tutti devono soffrire ogni giorno per sfamare le proprie famiglie, e comunque non ci sono mai abbastanza soldi. E qui, la nostra fake Chiara che cosa fa, interviene con la soluzione. Dammi, non mi credi, dammi 250 euro, e con la piattaforma XYZ guadagnerò un milione in 12-15 settimane. C'è sempre la promessa di un guadagno facile, dove non devi fare quasi nulla, e in pochissimo tempo, in 12-15 settimane, ti trasformerò in un super milionario. Ora poi, come vedete, l'intervista va avanti, questa finta intervista, con screenshot addirittura del conto in banca, e addirittura con le testimonianze di coloro che avrebbero investito in questo stesso business, e sarebbero diventati milionari. È un mondo di milionari, è un mondo di persone che, senza fare nulla, sono riuscite ad ottenere il successo. E questo è quello che la gente vuole, e questo è quello che le persone desiderano, ottenere il successo facile attraverso, che cosa? Attraverso un piccolo sforzo, uno sforzo ricalcato però sul modello di qualcuno che ce l'ha già fatta, e che quindi, nella sua veste autorevole, ti può raccontare il segreto. Perché c'è sempre un segreto nel linguaggio clickbait e nel linguaggio delle truffe, c'è un segreto che nessuno può sapere, ma proprio tu, o fortunato utente di internet, potrai scoprire. E come vedete, quindi, c'è questo estratto conto dell'intesa San Paolo, addirittura anche l'editore, questo Gian Porcello, che, vabbè, sembra un po' una presa in giro nei confronti di chi legge, tuttavia, vedete, tutte le testimonianze, ho risolto rapidamente, un amico ha già guadagnato, non poco, mi sono registrato, eccetera, eccetera. Certo, da uno sguardo un pochino più dettagliato, più approfondito, si vede che c'è un altro sito in alto, in piccolo, come intestazione di questa intervista, però i social sono una cosa rapida, sono un'azione veloce, non abbiamo tempo da perdere, noi dobbiamo correre giorno dopo giorno, momento dopo momento, dobbiamo combattere istante dopo istante verso la ricerca di una verità, che poi non troveremo mai, perché sostanzialmente la verità non esiste, tuttavia ad uno sguardo distratto di un utente che sta scrollando il cellulare in maniera disinteressata, così possa capitare di confondersi e di pensare che quel sito lì è davvero repubblica, e che davvero c'è stata un'intervista di un personaggio autorevole su una rete autorevole ad un altro personaggio autorevole che ti consiglia una cosa importante, e allora possiamo dare credito a tutto questo. E poi è tutto un gioco di link, perché naturalmente se tu non ti soffermi a guardare quella che è la fonte, a guardare e a cercare bene qual è quel tipo di fonte, che cosa accade? Accade che vai a cliccare rapidamente sul tasto che viene indicato in maniera ossessiva durante l'intervista all'interno dell'articolo e purtroppo si cade facilmente in errore. State attenti quando leggete un articolo, state attenti quando date credito ad una fonte, cercate sempre di approfondire le fonti, cercate sempre di approfondire quello che state leggendo. E questo vale per tutti, non soltanto per i più distratti, vale per tutti, è sempre più facile incorrere in errori, e soprattutto non credete mai alle persone che vi propongono guadagni facili, non credete mai al gatto e alla volpe che vi dicono che c'è il denaro sull'albero, perché il denaro sull'albero non cresce mai, c'è bisogno sempre di fatica, c'è bisogno sempre di... I colpi di fortuna possono capitare, ma nessuno, ti assicuro nessuno, su internet sta aspettando te per regalarti il segreto della ricchezza, ammesso che un segreto della ricchezza esista.